Il Consiglio Comunale di Santa Marinella ha approvato oggi a maggioranza l'assistamento generale al bilancio di previsione per l'esercizio 2012. Come confermato in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, non è stata aumentata alcuna tariffa comunale. Come al solito ha commentato il Sindaco Bacheca, le catastrofiche previsioni dell'opposizione si sono rivelate infondate poiché i conti sono in perfetto ordine e nonostante i numerosi tagli subiti dagli enti sovracomunali, siamo riusciti a garantire i servizi essenziali senza aumentare di un centesimo le tariffe comunali. Nella seduta pubblica sono stati inoltre approvati debiti fuori bilancio relativi al Consorzio Medio Tirreno e alla Porto Romano, i quali, come assicurato dall'assessore Bianchi, saranno spalmati nel documento economico del prossimo anno. In merito alle polemiche sollevate dai consiglieri di opposizione sulle opere pubbliche, ha concluso il Sindaco, confermo che saranno ultimate entro il termine della legislatura. L'amministrazione comunale di Tarquini ha decisa a tutelare la salute dei cittadini tarquinesi, ha stanziato 448 mila euro per installare il dearsenificatore, considerati i ritardi della Regione Lazio, della provincia di Viterbo e della società Talete, nel risolvere il problema della concentrazione di arsenico nelle reti idriche delle cittadine della Tuscia. Le risorse si sono rese disponibili grazie ad una pluriennale e oculata gestione del bilancio, dichiara il Sindaco Mauro Mazzola. Il Comune ha già avviato l'iter burocratico per dare inizio ai lavori, paghiamo colpe non nostre, attacca il primo cittadino etrusco. Abbiamo atteso che la Regione Lazio, la provincia di Viterbo e la società Talete sbloccassero la situazione, non è stato così e faremo da soli. Il rammarico è che queste risorse destinate al dearsenificatore potevano essere usate per altri importanti capitoli di spesa. Ricordo ancora una volta, conclude Mazzola, che la società Talete, nonostante i numerosi solleciti da parte dell'amministrazione, non ha mai voluto prendere in gestione la rete idrica di Tarquinia. Per questo motivo ci appelleremo nelle sedi opportune per rientrare del grande impegno economico che il Comune affronterà. Proteste studentesche, il Comune di Cerveteri manifesta insieme a studenti ed insegnanti. Ormai è chiaro a tutti che in Italia si sta passo dopo passo tentando di smantellare il sistema dell'istruzione pubblica a vantaggio di quella privata, commenta Giuseppe Zito, vice sindaco e assessore alla Scuola del Comune di Cerveteri. Alle proteste organizzate dai ragazzi e dai docenti dell'Istituto Mattei, ha detto Zito al termine della manifestazione che martedì ha raggiunto il municipio, ci siamo uniti anche noi occupando simbolicamente il palazzetto comunale. Abbiamo incoraggiato i manifestanti ad avviare un'assemblea nell'ex aula consigliare dove abbiamo ragionato insieme sui motivi della protesta e sulle modalità di organizzare una più ampia battaglia a difesa della scuola pubblica. Su proposta dei manifestanti, ha inoltre detto il sindaco Alessio Pascucci, abbiamo deciso di convocare un consiglio comunale aperto sul tema della scuola pubblica, da fare in maniera congiunta tra i comuni di Cerveteri e di Ladispoli e di organizzare un'assemblea pubblica alla quale inviteremo tutti gli istituti scolastici del territorio. E alla Dispoli presso l'aula consigliare Fausto Ceraulo, lezione di territorio per gli studenti della scuola media Corrado Melone. L'iniziativa è inserita nel progetto Identità che il delegato al turismo del comune Federico Ascani sta portando avanti. Il progetto, ha detto il consigliere comunale e delegato al turismo Federico Ascani, ha come obiettivo lo sviluppo turistico della città attraverso la scoperta di un patrimonio conoscitivo in grado di sostenere e promuovere la valorizzazione dell'identità territoriale in tutte le sue componenti. Insieme alla Proloco di Ladispoli, da sempre attenta alla conoscenza e alla promozione del territorio in collaborazione con la delegata alla pubblica istruzione del comune Rita Paone, ha proseguito Ascani e abbiamo proposto per gli studenti una lezione di territorio. Il 12 novembre si era svolto il primo appuntamento con gli studenti dell'Istituto Alberghiero. La lezione è stata supportata da materiali audiovisivi e dalle testimonianze di persone che hanno vissuto la storia di Ladispoli. È stata anche l'occasione, ha aggiunto Ascani, per approfondire la conoscenza del territorio da un punto di vista di turismo sostenibile. Luca Teles, imputato, Oliviero Toscani, pubblico ministero, Francesco Merlo, avvocato difensore. Sono i prestigiosi nomi che domani alle 17 daranno vita nella sala consigliare del Palazzo Comunale di Tarquinia al processo. La giuria del premio Tarquinia Cardarelli, composta dai critici Filippo Laporta, Raffaele Manica e Massimo Onofri, che la presiede, ha mosso un capo d'accusa molto grave per il giornalista telese. La nascita di pubblico, c'era bisogno di un altro quotidiano di sinistra, un capo d'accusa che prova a ricalcare quello di un perfetto processo stalinista nell'URS degli anni 30. Adesso ci fermiamo con un'altra pausa, poi la consueta pagina sportiva.